Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video, io sono Luke e oggi siamo tornati su Dokkan Battle per finire ciò che abbiamo cominciato l'altra volta Oggi vogliamo trovare il Goku, finiamo il giro, abbiamo un paio di ticket da usare, dove sono? Eccoli qua, questi ticket qua Ok, quindi andiamo ad usare questi, sì direi di sì, uggio però effettivamente quella da 50 è carina, è carina, adesso vedo, lancio la sigla e poi decido che cosa fare Sì, sì direi di andare qui, direi di andare lui o lui, questi sono i miei due obiettivi, quindi facciamo ste summon qua Sembrerebbe già che non si parte bene, dubito, se non vedo un'animazione incredibile schippo tutto, proprio la raffica Quindi partiamo a schippare tutto, un ciclietto Ok, unexpected, unexpected, ok Ok, sì, perfetto nel senso, bellissimo Non me l'aspettavo sinceramente Mi piace, mi piace un bot, sì, mi piace un bot Andiamo avanti allora, speriamo di trovare anche l'altro Goku Animazione nulla Quindi anche stavolta proviamo a schippare tutto, ma mi sa che stavolta purtroppo va male Oh, invece c'è un crack Ovviamente solo uno Ah, no, nulla di che Io comunque lo vado a loccare, perché mi sembra sia nuovo Vediamo, sì Tutte le unità nuove io me le locco, magari saranno utili in futuro Tranne i doppioni, i doppioni non li locco Perché tanto li devo dare Nulla, in teoria non significa nulla Anche se compare un po' troppe volte con Kralin Non credo ci sia proprio un senso sotto E nulla anche in questa Peccato, però devo dire che Aver trovato già Gogeta, che era uno degli obiettivi Gogeta è bello Ancora con Kralin Molto bello Gogeta, eh Molto molto bello Però vorrei anche quel Goku là, sinceramente Ovviamente voglio anche il Goku LR E non si può avere tutto dalla vita, però Vabbè, cooler Oh, un fake out, raga, non me lo fa schippare? Ok Ecco, questo non era uno dei miei obiettivi Ma sicuramente sarà Almeno credo sia forte anche il Sto cagando fuori Dokkan Fest Sto cagando fuori letteralmente Dokkan Fest Va bene, io li locco Nel senso, mi vanno bene Anche il cooler è il primo Sì, mi vanno benissimo Continuiamo, abbiamo altre due multi E poi si passa al Goku Al Goku Al Goku Interessante nulla Sì, si schippa tutto qua Si schippa tutto Ah, incredibile Nel senso Bellissime multi Non mi aspettavo di trovare niente di questi ticket Ho detto, saranno i soliti ticket flop In cui non trovi niente Invece Mi hanno stupito Tra i Dokkan Fest Non male Non male Nulla di che Neanche in questa Ma Le animazioni, raga Sono state casuale Trovato Dokkan Fest A destra manca Nulla Nulla, nulla Va bene Lo accetto Lo accetto Io direi Di Andare Su Il carissimo Goku Abbiamo tre Molti Concludendo il giro Non so se ne farò un'altra Ma Si spera di trovare Goku Con le scorse multi Sono andate bene 4 LR Ho trovato Due in due multi Cioè Due in una multi Per due volte Spero che stavolta trovo Goku E direi Di cominciare subito Mi dovete dare la vostra forza Mettendo un bel like Qua sotto In questo momento 3 2 1 Goku Vieni a noi Abbiamo un Whis Tiriamo giù Release Rainbow E facciamo partire Whis Non ho mai visto la tua animazione Vuoi farla partire qualche volta O resti sempre timido Resta timido Goku Sharon Dodoria Mercenary Tao Trunks Goku Whis STR No Nail Capitan Genio Che schifo Via 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 dal Via dal mio cellulare Anche se È nuovo Quindi lo loco Whis Non è nuovo Quindi ok Non avete lasciato like L'ho percepito Se adesso cliccate like Lo trovo Sono 100% sicuro Che adesso Io Lo trovo E c'è Beerus E c'è Beerus E che probabilmente Sarà timido Come Whis Quindi Non avete lasciato like No Crack No No Non l'avete lasciato Towser Tien Goku Ah Androidi Dovrebbe essere Non è da confesta Sarà un rear summon Androidi Se non sbaglio C'è la controparte Credo Magari mi sto confondendo Con altre pg Nail Osanus Sharon Cell Junior E No Vabbè Ceci Via 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 Mi danno l'aria Di unità Forte Non lo so Non lo so È la prima volta Che li pull Comunque Anche questa Ceci Purtroppo E non avete lasciato like Ancora una volta Lo volete lasciare Dai Dai Datemi sta potenza Datemi sta fortuna Per trovare Goku Vegeta L'avete lasciato Stavolta Cosa L'avete lasciato Zeno Oddio Ok L'avete lasciato Sì L'avete lasciato L'avete lasciato Di brutto anche L'avete proprio sfondato Gli avete attirato Un pugno Gli avete attirato Non lo so Krillin Vabbè Tanto non è più una sorpresa L'avete tirato Un pugno Proprio Eccolo qua L'avete tirato Il pugno Tipo Assurdo Cosa avete fatto Vegeta Ah ok Nel senso Oh Vados Nel senso Ok Mi va bene Vogliamo fare una doppietta Chiedo per un amico No Peccato Ok 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 Credo finisca Qui devo dire Cioè nel senso Non ho altro Raggiungere Che bello che è È veramente bello Wow Zeno Animation Zeno Animation La prima volta che la vedo E Wow Wow Non posso dire altro che wow Stavo pensando Stavo pensando Un team MoViros MoViros Loro Boostano MoViros Li devo ancora potenziare Loro boostano MoViros Solo che ho notato Che in game Non linkano Troppo di chi Serverebbe Qualcosa in più Di chi Sarà anche Perché ovviamente Non li ho potenziati Quindi perdono La Leader C'ha Due Dovrebbe arrivare A Quattro Quattro Suppongo Tre Tre Allora non è che Perdo così tanto Non lo so Considerando Che ho trovato Anche questo Goku Magari ho altre opzioni Allora lui Sicuramente Voglio vedere Che tag C'ha Non MoViros Ha Fused Fighter Power Beyond Super Saiyan Che dovrebbe essere Comunque Buono da mettere Io non so Che cosa sostituire Allora Vi faccio Vi faccio vedere Brevemente E se potete Datemi consigli Qua sotto Quindi Abbiamo Power Beyond Super Saiyan O MoViros Io voglio Buildare un team Così Quindi andiamo Partial Match Power Beyond Super Saiyan E MoViros Ok Tolgo tutti Questo è il box Questo Queste sono le unità Che ho Lasciate perdere L'NR SSR Ok Ok Queste sono le unità Che ho Ok Quindi Se potete Consigliate un team Che linki Perché ho avuto Sto problema Che Alcuni Non linkano Benissimo Nel team Che avevo Prima Quindi Se potete Darmi dei consigli Io li accetto Termino il video Qua E Metto Coco Spero che il video Vi sia piaciuto Se il video Vi è piaciuto Mi raccomando Mettete Like Anche se sono sicuro Che l'avete già messo Perché Qualcuno di voi L'ho visto Che ha tirato Un pugno Uno smash Sul tasto Dei mi piace Ed è uscito lui Spero che il video Vi sia piaciuto Iscrizione E noi ci vediamo Al prossimo Ciao ragazzi Ciao